ciao a tutti e bentornati nel mio canale oggi vedete questa strada anziché il mio viso perché sono in francia anche se voi questo video lo vedrete quando io sarò già tornata in italia comunque sto andando al jean che è il mio supermercato francese preferito e vi voglio portare con me ci sono un sacco di prodotti che in italia trovo con molta difficoltà o che addirittura non trovo affatto quindi adesso vi porto a fare la spesa con me all'interno del jean che in italiano è gigante qui c'è la frutta ma su questa non mi soffermo più di tanto perché la troviamo ovunque la frutta andiamo dalle bibite ecco questo è il corridoio delle bibite voglio farvi vedere una cosa particolare la coca cola aromatizzata al lampone e alla pesca l'avevo assaggiata all'expo di milano ma poi non l'ho mai più vista in italia passiamo adesso agli sciroppi lampone fragola mirtillo buonissimi anche questi sono ottimi qui abbiamo i succhi di frutta quelli molto classici quindi niente di che però ci sono tantissimi gusti qui abbiamo invece i piatti pronti pollo polpette tacchino tramezzini insomma cose di questo genere e qui c'è questo scaffale di biscotti che io in italia non ho mai visto boh magari esistono fatemi sapere però mi sembrano comunque invitanti come snack insomma è una cosa che assaggerai volentieri qui ci sono i formaggi formaggi li troviamo anche in italia però anche in francia vi assicuro che ci sono un sacco di formaggi buonissimi di tantissime tipologie diverse quindi sono banchi interessanti andiamo a vedere il pane il pane francese tipico per eccellenza è la baguette quindi vi farò vedere ovviamente la baguette eccola qui ce ne sono tantissime e sono profumatissime c'è un profumo inebriante a me poi la baguette piace veramente tantissimo quindi non posso non mostrarvela qui abbiamo il pan brioche quello dolce quello che avete già visto nel mio video svuota la spesa francese abbiamo tante tipologie diverse c'è col cioccolato c'è più leggero c'è più burroso c'è più sostanzioso però insomma è molto buono al mattino soprattutto con la marmellata devo dire che non mi dispiace affatto qui abbiamo le fette biscottate che sono classiche perché queste le troviamo ovunque ma quello che non trovo in italia sono le fette di pane tostato eccole qua magari esistono e sono io che non le ho viste però devo dire che in italia io questo prodotto non riesco a trovarlo perché non sono fette biscottate sono proprio fette di pane tostato qui abbiamo i cereali però questi direi che sono reperibili facilmente quello che invece non avevo visto in italia sono queste monoporzioni di cereali di tanti tipi diversi e questo è anche una cosa veramente carina poi qui abbiamo il pancaret salato quindi il classico pancaret che serve per fare i toast e qui abbiamo la pasta in scatola se avete visto il mio video sui ravioli in scatola sapete già di cosa parlo qualcuno è anche un po' rabbrividito qui invece abbiamo i sughi pronti quelli li abbiamo anche noi classici e qui abbiamo addirittura il pesto quindi pensate in francia c'è addirittura il pesto alla genovese qui abbiamo invece sempre dei piatti pronti delle cose un po' particolari ma io non l'ho mai assaggiate queste quindi non vi so dire assolutamente cosa sono se sono buoni se non lo sono perché non li ho mai sperimentati pasticceria pasticceria preparatevi a rifarvi gli occhi perché è uno spettacolo qui abbiamo le mini tropesien qui abbiamo anche delle torte più lunghe tipo budino qui abbiamo le torte di frutta che sono comunque una cosa veramente squisita e qui abbiamo la piccola pasticceria guardate che cos'è questo banco è una cosa fantastica io generalmente non sono golosa ma quando arrivo qua davanti divento golosa perché come si fa a resistere a una cosa del genere qui ci sono i biscotti adesso non mi viene in mente il nome questi hanno un nome particolare che ora non mi viene e qui abbiamo le torte di prima quelle lunghe sembrano un po' dei budini queste torte sono particolari e qui abbiamo la tropesien più grande che è una torta provenzale della costa azzura di san tropez la torta di san tropez qui invece abbiamo un'altra tipologia di torta che però io non conosco e non ho mai assaggiato quindi non so come sia qui abbiamo tutti i cioccolatini di varie forme di varie tipologie anche questo è veramente uno spettacolo qui abbiamo i dolci confezionati quindi tipo panettoncini torte confezionate e qui addirittura ci sono delle cose a forma di albero di natale quindi abbiamo già anticipato un pochino il natale e qui abbiamo la torta tipica dei pirenei io sono a lourdes in questo momento alle pendici dei pirenei e qui invece abbiamo i confetti che sono tutti colorati bellissimi io adoro i confetti qui abbiamo i budini dolci al cucchiaio piccoli dessert e la cosa particolare che ci sono tantissimi gusti budino al cocco budino alla vaniglia classico d'accordo però poi c'è il budino al pistacchio c'è il budino alla fragola c'è il budino con il caffè c'è il budino al caramello c'è il budino al cioccolato fondente dark ci sono veramente tantissimi dolci al cucchiaio guardate che spettacolo sono tutti invitanti e qui abbiamo i gelati i gelati li abbiamo anche noi però quello che noi non abbiamo sono tutti questi gusti qui c'è il limone la vaniglia il cocco l'arancio il mandarino i frutti rossi c'è veramente una tipologia di scelta infinita di tutti i gelati possibili immaginabili non posso riprenderli tutti perché ci stiamo due giorni ma ce ne sono veramente tanti qui abbiamo i magnum che a me piacciono veramente tantissimo poi qui abbiamo questi dolci che in questi dolci scusate questi gelati che assomigliano un pochino al magnum qui abbiamo quelli della kinder questi invece li ho visti in italia anche se non li ho mai provati qui abbiamo tantissime tipologie di tè tantissimi gusti abbiamo delle tisane abbiamo veramente un sacco di cose da provare sarebbe da provare tutto qua dentro io proverei tutto e comprerei tutto qui abbiamo il cappuccino il mio reparto preferito perché a me piace tantissimo questa tipologia di cappuccino quello da preparare in casa e qui abbiamo tantissimi gusti che io purtroppo in italia non ho mai visto ad esempio il cappuccino al caramello io questo in italia non l'ho proprio mai visto poi ci sono altre tipologie di cappuccino che in italia non ho mai visto questo è quello classico quindi questo ce l'abbiamo anche noi ma guardate ve li faccio vedere tutti nocciola vaniglia caramello cioccolato viennese e cioccolato bianco io non l'ho mai visti questi in italia solo la nocciola qui abbiamo le marmellate anche qui tantissime scelte tantissime tipologie tantissimi gusti abbiamo anche il miele ma la marmellata è veramente un'altra cosa in cui io mi perdo perché ci sono tanti gusti qua abbiamo i biscotti quelli diciamo classici tipo snack quelli col cioccolato quelli molto invitanti sapete quelli che non bisognerebbe mai mangiare ma che puntualmente abbiamo sempre in casa e che mangiamo abitualmente questi sono bellissimi perché sono doppi con il ripieno in mezzo con la crema alla vaniglia al cioccolato alla nocciola ci sono veramente tutti questi hanno le gocce di cioccolato e anche questi devo dire che non sono affatto male questo è il goffre io l'ho scoperto qui per la prima volta dopo una vita che frequento la francia però buono questa devo comprarla perché in albergo ne ho rotto una quindi va bene anche questa qui abbiamo dei piatti mi piacciono molto perché questi piatti sembra che abbiano un po un mandala sopra sembrano dei mandala guardate come sono carini come sono particolari mi piacciono tantissimo questi qua l'abbigliamento ecco l'abbigliamento non mi piace non c'è niente che mi sia piaciuto qua quindi non compro nulla l'unica cosa carina questa borsa fatta tipo all'uncinetto a maglia questa è carina ma comunque non la comprerò però è carina andiamo alle casse chewing gum e caramelle anche qui tanti gusti diversi ma quello che mi piace in particolare sono le mentos al cioccolato anche queste in italia non l'ho mai viste mentos al cioccolato io mi fermo qua vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto mettete un like al video se vi è piaciuto mettete un like anche per il supermercato francese che comunque secondo me un bel like se lo merita vi invito ovviamente a commentare a farmi sapere se siete mai stati in questi supermercati cosa vi attira di più e ovviamente ci vedremo al prossimo video un bacio enorme